Pubblico delle grandi occasioni a Liberi, per la prima di Sant'Alfonso ritorna a Liberi il cortometraggio di Michele Schiano sulla vita del santo alla presenza del Vescovo delle Diocesi di Tiano Calvi Alife Cagliazzo, Sua Eccellenza Giacomo Cirulli. Un documento filmato unico che oltre all'esame del pubblico pare abbia superato anche quello della Chiesa con il Vescovo che poi vediamo e sentiamo nella sequenza di interventi, poi il regista, l'attore e protagonista Pier Giuseppe Francione nella parte di Sant'Alfonso e il sindaco di Liberi Diana. Eccellenza, allora stasera questo cortometraggio di Sant'Alfonso, volevo intanto una sua impressione. Mi ha colpito proprio il fatto in sé, questo momento qui a Liberi in cui abbiamo ricordato un momento storico importantissimo per Liberi, ma non solo per Liberi, pure per il mondo indero, i redendoristi sono diffusi in tutto il mondo. C'è stata qualche scena in particolare che l'ha colpito? Il cortometraggio? Ma credo che quella che un po' era tutto il cortometraggio, la vicinanza di Sant'Alfonso al popolo. Forse è uno dei cortometraggi più importanti per te, forse più emozionante, è vero questo? Sì, è stato uno dei miei lavori dove appunto l'emozione è stata sconfinata, nel senso sono riuscito ad emozionarmi quasi in ogni scena. C'è stata una scena in particolare? Sì, la scena del rientro del santo tra le folle con i rametti di olivo è stata toccante ed emozionante in quanto Sant'Alfonso virtualmente rientra in quella che un tempo, Liberi, lo scacciò, quella città che appunto non l'ho amato fino alla fine, però la città poi l'ha voluto perché è un legame indissolubile, quello tra il santo e Liberi. Sant'Alfonso ritorna a Liberi, l'attore principale per Giuseppe Frangione. Qual è stato il momento più toccante di questo cortometraggio? Guarda, sono stati tutti intensi, quello più toccante forse insomma la preparazione prima di andare in scena dove percorri un po' tante cose, no sicuramente quello nella cella, cioè diciamo nella sua cella, così quello anche con la meredrice, molto intensa, con Sara Falanga. Una bella soddisfazione per Liberi? Sì, buonasera a tutti, sì è una bella soddisfazione. Per la verità già le premesse erano buone già qualche mese fa, visto la partecipazione di tanti concittadini che hanno aderito e partecipato come comparsi a questa bellissima iniziativa di Caserta Sera, è il primo documentario della storia di Sant'Alfonso e il primo sicuro girato a Liberi e deve essere un vanto per tutti noi calpestare queste terre che anni fa hanno calpestato personaggi santi come Sant'Alfonso o Sant'Anselmo. Grazie.